volete fare anche voi questa focaccia morbidissima con il tango zongo e iniziamo subito prima di tutto facciamoci il tango zongo con acqua e farina miscate bene bene non devono venire le pagliocche e mettete sul gas si deve intostare deve venire una crema sciovata così poi azzeccate la pellicola sub e la fate raffreddare nel frigorifico così facciamo prima il tempo che si fa freddo ci facciamo l'impasto con farina e zucchero lieve di planetaria cominciate ad ammiscare e pomenate anche il tango zongo e l'acqua un filo alla volta vedete che quello concio concio diventa moscia aggiungete un filo a ruodio così si stacca dalle pareti poi staccate la macchinetta fate riposare 10 minuti dopo 10 minuti aggiungete il sale e ammiscate bene ora menate tutto in una bella zuppiera un bel filo a ruodio così non azzecca dovete fare delle pieghe veloce veloce attappate e fatelo crescere basterà un'oretta con questo cavolo dopo un'oretta prendete l'impasto lo menate in un bel ruoto già anzevato lo stendete se vedete che si ritira lasciatelo riposare 5 minuti quello poi si stende meglio nel tramento spazzato ci ammisciamo in un bucaccello, ruodio, acqua e sale ruppio quando l'avete stenduto va bene menate questa salamora sopra invezzate logicamente le reti dentro ritendete la manicure con il smalto che viene più favorito poi come tocco da gran gourmet si invezzate per dentro acqua e oliva senza osso così non riscaldiamo i denti fate cuocere 30 minuti a 190 gradi e questo è il risultato io l'ho accungiata così da un lato il formaggio spalmabile dall'altra maionese insalata a tutte le parti amminate di olio un po' di sale il formaggio spalmabile prosciutto crudo e parmigiano con la maionese tunno pommarulele lo faccio vedere anche la fella a metà è facile, veloce e troppo saporito e come sembra buon appetito buon appetito